Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport Fede, 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 fede Chi c'è qua, solo chi c'ha fede E chi sta là, non ha alcuna fede Ma se fosse per me, se tu me lo concedi Vorrei capir da te, la fede la possiedi Fede sì, ma non sono arbitrale La storia ci insegna che ci facciamo del male Preferisco lo sportivo, lui sì, suo podio sale Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare Calcio, basket, tennis, ballet Ragli, lotta, tutti, corri Non importa, sai Muoviti, 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 muoviti Grandi ragazzi, tante sorprese per il lato umano dello sport Storie umane, vogliamo scoprire cosa c'è dietro il campione, dietro la tecnica E di chi lo sapremo questa sera? Scopriamolo dalla clip selfie Ciao a tutti, sono Nicola Muruso Ho smesso di giocare circa 6 anni fa La mia è stata una carriera, un'avventura calcistica molto lunga E anche molto varia Detengo un record particolare insieme a Marco Borriello Ovvero quello di aver segnato con 12 maglie diverse E il resto ve lo racconterò nella puntata Ciao Coraggioso, raffinato, il bomber girovago, Nicola Muruso Benvenuto Nicola Nicola, ti abbiamo definito, innanzitutto benvenuto a Solo Chi Cia Fede Un piacere averti con noi Ti abbiamo definito il bomber girovago Un po' ce l'hai accennato nella tua clip selfie 13 squadre in serie A Con le quali hai fatto tra l'altro 12 gol Record assoluto Sì, ciao Federica, ciao a tutti Innanzitutto pensavo mi chiedessi di fare i palleggi suoi Quindi ero molto preoccupato Questo alla fine della puntata Ero molto preoccupato Però sì, è stata una bellissima esperienza la mia Calcistica, ho iniziato a 14 anni E poi ho girato l'Italia in lungo e in largo Veramente Da Torino a Reggio Calabria Passando da Padova a Genova Quindi è anche Modena, Napoli Insomma, tante belle esperienze E quindi ho tanti amici in tutta Italia E posso viaggiare seneramente Che ho sempre consigli Giusti e di cuore E questo lo capiamo meglio con C'è fede, fede! Nicola, la fede nella famiglia Fondamentale per chi fa poi tra l'altro Una carriera da sportivo come hai fatto tu Sì I tuoi genitori, iniziamo con loro Bene, siamo in tanti I miei genitori siamo cinque fratelli Una famiglia classica terrona Quindi Qua ti vediamo con i tuoi genitori Sì, con mia mamma, mio papà E mio fratello il più piccolo È una famiglia molto unita Ti dico che ogni giorno sento tutti Quindi il mio telefono è sempre molto attivo Poi naturalmente sono la mia forza Sono stato sempre di grande supporto E quindi appena c'è occasione Stiamo insieme Condividiamo le feste e non solo A proposito della tua famiglia Quando tu cominciaste Hai cominciato molto giovane Tra l'altro diciamo che a 13 anni Tu ti sei già trasferito a Genova Quindi la mamma ti dava il saluto Dalla Puglia E ti mandava verso Genova Perciò c'erano questi pianti Tutte le volte che partivi Lei si è un po' opposta inizialmente Raccontaci Beh sì, devo dire che Se ho fatto questa carriera Soprattutto a mio papà Che mi ha dato la possibilità Per mia mamma Ti voleva in casa Ti voleva vicino Soprattutto per lo studio Ha sempre tenuto a quello soprattutto E quindi per lei Non capiva l'importanza di questa occasione Il mio papà insomma Invece mi ricordo il giorno Di quella decisione In cui si oppose fermamente a mia mamma E disse Io mio figlio Non posso togliere questa possibilità E quindi dalla Puglia Sono partito Per questa esperienza bellissima Anche tanti sacrifici Però nel calcio E soprattutto quando fai qualcosa Che ti appassiona Io non riesco Faccio fatica a pronunciare La parola sacrificio È stato tutto naturale Voluto È stato bellissimo Parte della tua passione Quindi una naturalezza La vivi come una cosa naturale Quando fa parte di te Assolutamente sì Continuando poi negli anni Tu ti sei sposato Poi lo racconteremo Perché ci sono delle bellissime storie A riguardo E hai fatto due figlie Quindi Nessun campione calcistico Due figlie peraltro Che un po' ti rammarichi Perché le definisci Antisport Eccone qua Una foto meravigliosa Guarda Sembra la foto di una soppopera Questa Questa è la mia figlia Ludovica Sì Sono Insomma Una A 16 anni Giulia la grande A 16 anni e mezzo E la piccola a 12 anni Però ti lascio immaginare il dramma Il mio dramma familiare Perché sono antisport Hanno provato di tutto Dal curling A ping pong E tennis Palla a volo Però Purtroppo Non è la loro strada Non è la loro strada Insomma Però devo dire che sono Sono contento Sono stupende Mi danno grande soddisfazione Anche con gli studi Quindi Ahimè Avrei voluto Seguirle la domenica Per qualche Sport Purtroppo Senti Nicola Questa l'abbiamo voluto Assolutamente mettere Perché questo è il tuo primo Il tuo primo cartellino Cioè il tuo primo tesseramento Un po' arrugginito Un po' arrugginito Ma è meraviglioso Davvero E qua Proprio nel momento in cui Tu poi andasti A Genova Sì Qui ero Ero Giovanissimo Il primo tesseramento Di una squadra Vicino Cerignola Il Trinitapoli Anche una squadra Importante Perché poi Sono anche Altri giocatori Tipo Leonardo Colucci Che ora allenatore Giocava con me E quindi Ho iniziato lì A 15 km Da casa mia E di lì Ci sono aperte Le porte Per Per la tua carriera Poi di grandi successi La fede Nell'amicizia Vediamo qua Una foto con Giuliano e Ciro Ferrara Ad esempio Vi lega una forte amicizia Siete stati compagni di squadra Sì Siete stati compagni di squadra E credo sia Il bello Degli sport di squadra Conoscere Tanti amici Tante storie Condividere tanti momenti Belli Brutti Intensi Mini intensi E questa foto E questa foto è bella Perché sono Due amici Che continuo a vedere A sentire Con continuità E poi non è facile Scontato Perché poi È difficile Mantene i rapporti Soprattutto quando Si vive in città diverse Si intraprendono Attività diverse Però ecco Con loro Sono sempre In buoni rapporti Ci vediamo Spesso E ci raccontiamo I betempi E insomma Nicola C'è qualche occasione Particolare Nella tua vita In cui sei rimasto Senza respiro? Beh naturalmente Sì La nascita Delle mie figlie Ma soprattutto Quella di Ludovica La seconda Mi sento un po' in colpa Per non aver assistito Al parto Alla prima Perché Poi mi sono reso conto Quanto Sia stato Emozionante Vivere Quella Quel momento La nascita Di una figlia È qualcosa Che ti rimane dentro Ricordo che Scorrevano le lacrime E nessuno riusciva A fermarti Sì E quindi Sono quei momenti Indimenticabili E lì veramente Sono rimasto Senza respiro Senza respiro E quindi scopriamo La gestione del respiro Grazie al nostro Campione del mondo di apnea Professore universitario E dottore Senza respiro Mike Maric Ben arrivato Mike Eccoci qua Con le nostre prove Per capire come gestire Il nostro respiro Sì Io mi sono emozionato Perché Ci ha raccontato Che ha perso il respiro E oggi ho tre strumenti Vorrei ricordare E sono strumenti medicali Che noi utilizziamo Come gioco Sono degli incentivatori Diaframmatici Il gioco De tre palle Lo stantufino E il soffietto Così chiamato In realtà Servono per Non perdere il fiato E oggi per te Ho scelto Visto che hai parlato Di figli Di bambine Mai cresciute Questo che è un simpatico giochino Questo strumento funziona È una sorta di cannuccia Dove tu Prendendo bene aria Devi soffiare E mantenere la pallina In sospensione Questo ci permette Di capire Quanto sei forte Con il diaframma Che è il muscolo Più importante Della respirazione E perché no Testarti Con una bella sfida Allora Siamo pronti? Sì Pronti col tifo Un bel fiatone 3, 2, 1 Via Parte il tempo Pallina in sospensione Saper dosare Vai, vai, vai Molto bene Tenere, tenere, tenere Tenere, tenere Mi aspetto Un bel risultato Bravo Sei a 10 secondi Molto bene Bravo, bravo Continua così Ragazzi ne ha di piatto Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Ehi Caspita ragazzi Quasi 23 Quasi 23 È in pole position Assoluta pole position In assoluto Il migliore Perché poi tu sei uno Che non perde Lo so Che ci tieni Sono competitivo Sì esatto Sei competitivo E devo dire che Hai dimostrato Che nonostante un ex Sei sempre di fiato Ne hai Grazie al tennis Spero di Anzi sono sicuro Che migliorerai Le tue prestazioni Nel tennis E nella vita Con questo libro Che Dove insegno Tutte le metodiche Per riuscire a gestire Il corpo e la mente Attraverso la respirazione Grazie Mike Lo giuro con piacere Grazie mille a te Ciao Nicola Mike Prossima settimana Nuovo senza respiro Nuove prove Mike Maric Ci accomodiamo Nicola Prego Ed eccoci Nicola Continuiamo Ti abbiamo lasciato Senza fiato Ma anche tu a noi Perché non ce l'aspettavamo Infatti il tifo Continuava Hai visto Ora di emozionarci Con le tue immagini Di vita E non soltanto Foto ricordo Prima foto Io vedo questa immagine E penso alla libertà Raccontaci di questa foto Sì ti racconto Prima di tutto Come sono arrivato a quello Io ho avuto sempre Un sogno ricorrente Quello di volare Esattamente Ma sognavo sempre Inizialmente Dal balcone di mia nonna Che abitava al quinto piano Volevi volare dal balcone Di tua nonna No Sognavo Di volare Ma frequentemente Di volare Di planare col grembiule Addirittura Ma lo facevo spesso Questo sogno Quindi Dentro di me La voglia di provare Quell'emozione Ce l'avevo Da tanto Dopo aver fatto sport A livelli importanti E aver smesso Cercare Di trovare Quelle emozioni Che ti dà Magari uno stadio pieno Un gol È difficile È difficile E con quel lancio Ho provato Ovviamente Un'emozione Unica Il salto nel vuoto Poi Anche il Ciò che vedi È qualcosa di unico Quindi Lo consiglio vivamente Prossima immagine Una maglia Che è anche un amore Raccontaci Beh sì Questo è un anno Stato un anno Veramente particolare Che anno era questo? Il 2000 Dove ti trovavi? A Napoli A Napoli Insomma A Napoli Sono successe Tante cose Un capitolo importantissimo Della mia vita Perché Sono arrivato In una città Unica Una città Una grande piazza Una bellissima città E poi insomma Lì ho incontrato Mia moglie Sono nata Le mie figlie Quindi È un capitolo Ecco qua Una foto meravigliosa Del vostro matrimonio Sì sì Ci siamo sposati A Sorrento Però Credo la cosa Bella Interessante È che Io comunque L'ho conosciuta Perché Ho affittato Casa sua Sì sì Questo ce lo devi raccontare Tu sei arrivato A Napoli E dovevi affittare Una casa ovviamente Allora Sono arrivato a Napoli E Avevo già affittato Un'altra casa E lì Ho fatto anche il trasloco Era un albergo Arriva mia mamma E mi dice Guarda Sono Sono andato Sono andata a vedere Un'altra casa Mi piace Ho deciso Devi prenderla Perché ho detto Mamma guarda Che Ho già fatto il trasloco Ho firmato il contratto Ho detto Non ci penso nemmeno No Andiamo a vederla Andiamo a vederla Siamo andati a vederla Era una casa molto bella Era nuovissima Però insomma E ho detto Io Già ho firmato il contratto Insomma Il giorno dopo Vado ad allenarmi E c'era Checco Moriero Che era appena arrivato E mi dice Nicola ma scusa Mi puoi dare qualche consiglio Cerco casa E ho detto Guarda Prendi Casa con cui ho fatto ora Il contratto Ti passo Ti cedo il mio contratto E vado In casa Di Di mia moglie E quindi E' stato Merito Di mia mamma Se alla fine Ci siamo conosciuti E' stato veramente Un Colpo di fulmine Si un colpo di fulmine Però ripeto Tutto molto strano Dovevo andare lì Poi insomma Il destino Bravo Detto bene Il destino E poi Prossima foto Ed ecco ti qua Trascinato da un Cristian Vieri Raccontaci un attimo Anno Luogo Si Questa è la partita Juve Roma L'anno Il 97 Primo anno di Juventus Siamo arrivati Insieme Io Vieri Montero Giuliano I giovani Ed è stato Bello Perché ci siamo trovati In questo La Juventus Anno prima Aveva vinto La Champions League E noi eravamo i giovani Un gruppo fantastico Ci siamo divertiti Ci siamo emozionati Abbiamo Due scudetti Nelle prime due stagioni Si È stato un arrivo Si Purtroppo Poi due finali Anche due Champions Perse Però intercontinentale Insomma Tanti bei ricordi E soprattutto Questo Che siamo arrivati insieme Un gruppo di giovani E abbiamo condiviso subito Le prime emozioni Perché arrivare a Juventus Giovanissimi È qualcosa Veramente che È un mondo a parte Un mondo Juve è un mondo a parte Quella voglia di Di dominare E in quegli anni Si dominava veramente Sia in Nel nostro campionato Ma anche A livello internazionale In Champions League Quindi E questa foto È molto bella Perché Poi con Cristian Eravamo 24 ore Su 24 insieme Quindi Dormiamo insieme In camera Quindi Insomma Vediamo dei personaggini Insomma C'era Gesù De Schampo Di Livio E dietro c'era Tacchinardi Non si vede Ma Ma c'era anche Una mano e la sua Sì 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 Riconosco Dalla colonna Nicola Come gestire le proprie energie Lo scopriamo attraverso Energia vitale Egeria vuol dire energia Ed Egeria pensa a questo spazio Proprio per capire Come gestire le proprie energie Come loro fanno Per illuminare Il business Caro Nicola Sei pronto? Allora ti darò le voci Famiglia Lavoro Sport Svago E una voce libera Devi fare un 100% Quindi regola le tue energie In questo Pondera Famiglia Beh 40% sicuramente 40% Sì Quando giochi a calcio È difficile stare in famiglia Quindi diciamo Sto recuperando un po' il tempo Perso E mi sto godendo un po' più Le mie figlie Che bella cosa questa Bravo Poi il lavoro 30% Importante E siamo a un 70% E siamo a un 70% Attenzione perché poi ti rimane Sport Svago E una voce libera Beh sport 20% assolutamente Arriviamo a un 90% Svago 5% 5% Come ti svaghi Come ti svaghi Beh Cinema Ma soprattutto Quello svago è Con le mie figlie Far quello che loro piace E piace fare shopping Soprattutto alla piccolina Quindi Ah sì Ti dai lo shopping Sfrenato anche Con la piccolina Mi tocca Mi tocca Soprattutto il sabato Mi tocca portarla in giro Perché Ama Ama lo shopping E Facciamo questo sacrificio Ultimo 5% Una voce libera Così ci racconti qualcosa di te Beh Ripeto A parte Beh Viaggiare Sicuramente viaggiare C'è un posto In cui amo andare E A Miami Perché ho tanti amici E posso fare sport Sempre C'è sole E quindi appena posso Ecco C'è questa città Che amo In maniera particolare Adesso vediamo Cosa carpiamo in più Di Nicola Moruso Con My Music Ragazzi Pronti Nicola Abbiamo messo A tua disposizione La nostra Mimisara Band Eccoli qua Te li presento Alessio Matteo Andrea Thomas E la nostra Claudia Primo brano Balliamo sul mondo Va bene qualsiasi musica Cadremo ballando Sul mondo lo sai Si scivola Faremo un pantalò Là sotto qualcuno Riderà Balliamo su Mondo Mondo Bravi ragazzi Balliamo sul mondo Luciano Ligabue Allora ti spiego perché questa canzone Perché mi ricorda tantissimo Gli anni di Genova C'era un amico Un ragazzo Matteo Gianardi Che saluto Che era Patito di Ligabue E quasi ogni sera E quasi ogni sera Ci radunavamo Attorno a lui E lui Si esibiva In un concerto E quindi Ligabue E quindi Ligabue Ogni sera Lo ascoltavamo Quindi mi è rimasto nel cuore La canti qualche volta? Non la canto Però l'ascolto Perché mi ricorda quei momenti Belli Spensierati E poi Ripeto Eravamo quei 25 Che seguivamo un sogno Quindi ci accomunava Il sogno di intercalciatori Ma anche Liga Ultimo brano per Nicola Il sogno di intercalciatori If you stay Won't you stay 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 in room for my life Stay in room for a moment You're here with me Stay in room for my life Save a little Save a little for me Won't you stay a little Save a little for me Oh, oh, oh 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 Bravissimi ragazzi Claudia Fantastica Save Room John Legend Oh sì John Legend Questa canzone Correva l'anno 2006 E un anno particolare per me Perché Insomma Ascoltavo spesso questa canzone Mi sono Mi è nata Ludovica La piccolina e in più mi sono sposato quindi un anno particolare questa è la canzone che ascoltavo di più salutiamo tra l'altro tutta la tua famiglia davvero un carissimo saluto da parte nostra Nicola, come sei messo con il fai da te? malissimo mia moglie si lamenta molto di questo e adesso noi però ti mettiamo alla prova con Bricofer, Black & Decker e tra il dire e il fare andiamo! ed eccoci Nicola nel nostro spazio fai da te così adesso vediamo insomma tua moglie che cosa ne penserà magari avrai un miglioramento improvviso grazie a Black & Decker e Bricofer protagonisti di questo nostro spazio 60 secondi per te e tantissimi campioni da battere vedi la classifica alle tue spalle dovrai mettere il maggior numero di viti nel maggior numero di fori quindi avrai il tuo trapano Black & Decker e il tuo avvitatore sei pronto? allora massima sicurezza nel mento io ti faccio un vero falso così scopriamo qualcosa in più del mondo Black & Decker sul sito Black & Decker sono presenti idee di progetti fai da te? vero o falso? vero vero come ad esempio fare un elefantino ad ondolo la gamma Black & Decker fai da te è composta da quanti prodotti? 80-90 o più di 100? più di 100? più di 100 Black & Decker preparato li trovate ovviamente tutti da Bricoferi noi siamo pronti allora ci sei? io il pennarello alla mano e spero di scrivere un bel punteggio alle nostre spalle solo 60 secondi? solo 60 secondi? fuori in 60 secondi pronto? 3 2 1 go! vai Nicola! ti ricordo che sei un competitivo che sei un competitivo vediamo vediamo cosa combina il nostro Nicola forza 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 intanto stai bucando poi tua moglie ti prenderà in parola adesso ti mette a lavorare a casa allora 45 secondi ancora per te tutto il tempo vai precisissimo però avete visto viti ovviamente per te lui va sul sicuro prima un tot di numero di buchi di pori e poi le viti vai 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 e siamo a 30 secondi hai ancora 30 secondi a disposizione forza forza Nicola 30 secondi a disposizione 23 ancora 23 per te Nicola Moruso le prese col pai da te forza Nicola vai grinta grinta come una partita a tennis una finale di Champions 12 secondi 11 dai 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 vai 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 5 secondi 5 secondi 5 secondi 2 1 stop allora pensavo peggio? beh allora bene io pensavo un po' meglio però ascoltando tua moglie effettivamente non è male non è male dai, allora uno, due, tre, quattro, cinque cinque Nicola sei penultimo a pari merito con Di Costanzo allora Amoruso Amoruso è bello vedere voi campioni però così ti allenerai poi vedrai per il nostro super finalone così ti metteremo alla prova anche con il nostro staff stai pronto sorpresa per te seguimi ed eccoci Nicola beh guarda devo dirti che nel corso di queste tradizioni solo chi c'ha fede abbiamo messo alla prova tantissimi campioni e c'è stato addirittura chi ha totalizzato zero uno tre quindi in confronto non sei andato male pensavo peggio ne allenerò te lo prometto allora Nicola prima di salutarci volevo che tu dessi un consiglio a tutti coloro che vogliono intraprendere la tua carriera e anche un consiglio di vita oltre che di sport guarda fede io sto seguendo parecchi ragazzi e naturalmente che vorrebbero diventare calciatori e io dico sempre loro di far tutto con compassione soprattutto cercando di non lasciare tralasciare gli studi e credo che ci deve essere cuore, testa e poi muscoli però è importante soprattutto anche che ci sia il supporto dei genitori io lotto tanto su questo perché spesso i genitori sperano che i figli diventino calciatori ma fanno spesso solo danni quindi lasciateli un po' liberi di scegliere restandogli vicino assolutamente senti noi noi ti mandiamo a casa con un nostro ricordo e una interpretazione del nostro Ila Lasciur caricaturista ecco Nicola Moruso con una maglia guarda della Juve che non so nemmeno se hai mai indossato però lui ti ha visto in questo modo sì questa qui sì non è stata perché è delle partite The Legend The Legend ecco vedi e noi ci salutiamo così perché la prossima settimana alle 22.40 su Sport Italia ci sarà un'altra puntata con un altro super ospite per solo chi c'ha fede il lato umano dello sport scopriremo proprio quello che si nasconde dietro ai nostri campioni avete visto anche con Nicola oggi che meraviglia vi aspettiamo Fast Food Freestyler Mimi Sarabend prossima settimana a venerdì 22.40 a venerdì 23.40 ma che bravo solo chi c'ha fede sono chi c'ha fede sono chi c'ha fede sono chi c'ha fede solo chi c'ha fede sono chi c'ha fede Solo chi c'ha bene Solo chi c'ha bene